Il corteo previsto per domani a Giuliano è stato annullato. Gli studenti dell'Istituto Minzoni, che insieme a docenti e genitori avevano annunciato una manifestazione di protesta, hanno deciso di rinviarla e di trasferire il corteo da Giuliano a Napoli, e dunque non più all'esterno del comune ma della città metropolitana. Il sindaco si è schierato dalla nostra parte, ha preso una decisione giusta per noi, che è quella di schierarsi con noi. Quindi il corteo organizzato per domani mattina è stato annullato per questo motivo. Quindi noi domani entreremo a scuola normalmente e saremo ancora in assemblea permanente, come stamattina, dove ci chiariremo ancora una volta un attimo le idee. Dal giorno dopo, mercoledì, abbiamo una seria intenzione di andare sotto la provincia a Napoli per farci sentire. Provederemo a protestare sotto la provincia e se serve anche sotto la regione. Se nel frattempo non si trova un nuovo stabilimento per questi ragazzi della succursale e purtroppo debbano essere costretti ad andare a Barcaturo, almeno garantire un servizio navetta, un servizio pullman, per far sì che i ragazzi della succursale possano raggiungere la seria a Barcaturo. Domani terremo un incontro con il sindaco dove ci spiegherà varie cose, ci spiegherà l'incontro che è stato tra lui e la città metropolitana. Il preside questa mattina nel corso di una conferenza stampa ha spiegato i disagi che sta vivendo la scuola. La ex provincia ha infatti intimato alla dirigenza di sgomberare la succursale di via Dante Alighieri entro il 31 dicembre. L'ex provincia dichiara di non poter più pagare gli affitti passivi, per cui ha imposto, anzi ci ha condizionato, che noi dal 1 gennaio 2018 dobbiamo lasciare scomperare l'istituto. Per cui i ragazzi si troveranno da un giorno ad un altro, probabilmente la notte di San Silvestro, al giorno dopo in cui non hanno più una sede dove fare lezioni. Quelle che c'erano state più volte proposte è una sede in Parcatura. Certamente questi alunni non possono trasferirsi ad una distanza di 30 km. Io nel momento cercherò, al momento in cui sarà chiuso l'istituto, di portare presso la sede centrale.